Dato che io non so fare i vlog, ho fatto dei video, cioè insomma, partiamo dal principio, sono andata a Roma e volevo fare un vlog, ma dato che non li so fare, ho fatto dei video spezzettati e messi insieme non hanno un senso. Quindi ora faccio questo video in pigiama per spiegarvi quello che ho fatto. Barbara non sapeva che noi stavamo, cioè che io stavo andando a Roma, quindi sono andato prima di Chiara. Insieme a Chiara e due amici di Chiara siamo andati dove stava Barbara, ovvero a Webland alle Fere di Roma a fare i web show awards, ok? Racconti Chiara. Sentite questo buon profumo? Che ha fregato la mia madre. Una volta arrivati lì, ci siamo un pochino persi, perché l'ingresso di questo posto era tutt'altra parte e noi eravamo dall'altra parte, cioè non so che se avete capito, non eravamo dove stava l'ingresso praticamente. Aaaaaah! Chiara, ma qui è desolato! Aaaaaah! Che c'è? Guarda quanta gente! No, finalmente ci siamo arrivati, abbiamo, non siamo entrati insomma, al backstage, cioè abbiamo conosciuto un po' di cose, un po' di cosine, abbiamo conosciuto un po' di persone. No, non c'è stata una bambina, non c'è stata una bambina. Dove è a barna, no? Dove è a barna? Vitasse? Verbera! No, vabbè... Ok, non c'è, non c'è. Non c'è verba, eh... Siamo a web show awards... Siamo a web show awards... E non so fai i vlog, quindi... Ehh... C'è parecchia gente... Tanta gente! Tanta gente! Non lo sanno tutto il livello. Ciao, ciao, ciao mamma Poi niente, ce ne stavamo andando Barbara però è rimasta lì Mentre io e Chiara andiamo due ornelli a casa Finalmente Barbara è qui Qui è tutto chiuso Come faccio? No, 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 no Darby c'è freddo Soppa! Sì che anno? Un video rientra in un video? E, 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 e Shrip Sembra più la parolazzo Shrip Va bene, vi sbligate Ciao Biba Ciao Biba Insomma a questo momento un po' Il mio vlog è un po' andato a farsi fotte Perché praticamente mi sono scordato Quindi ho salvato tutti i video che ho fatto su Snapchat E quindi adesso vi metterò tutti i video Vi lascio ai Snap, chat, cat Non lo metto? Non lo metto? Sì? Come a uno selfo Spai il mio video Guardate Morbidi Cioccolatosi Cioccolatosi Ma che stai facendo? Ha spazzuto il mio Ha spazzuto il mio Questa è una fantastica mattina con le due ragazze Più gioiose del mondo La seccata Biba Ma sei tu quella sul giornale Ma sono io Ma sei tu La seccata Ma mi scusi ma lei ha quella sul giornale? Ecco a te Ecco a te La mia famiglia Beh Più in fondo c'è casa di Chiara Oh yeah Il nostro vlog si basa interamente sul cane di Barbara Eccolo 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 E' il mio cane Eccolo